Lo SNAS ha inteso non firmare l'ipotesi di contratto di lavoro che è stata siglata dai confederali, perché riteniamo in sintesi che non risponde alle attese dalla categoria per quanto riguarda gli aumenti contrattuali, che in pratica si attestano massimo a 50 euro medi di aumenti reali e fra l'altro una parte di questi potrebbero non essere poi conservati dal primo gennaio 2019. Secondo, perché alcuni aspetti che ne avevamo chiesti come importanti di ritornare all'interno della contrattazione, di riportare all'interno della contrattazione all'istituto, alcuni aspetti importanti per noi come per esempio l'assegnazione dei docenti ai pressi o l'organizzazione dei lavori sono rimasti esclusi, quindi siamo rimasti a un taglio delle prerogative sindacali dentro gli istituti scolastici. E nel complesso quindi la dignità del personale, nel suo complesso dai collaboratori scolastici fino al personale docente, non è stata rispettata da questo contratto. Noi siamo convinti che al di là del no che abbiamo detto, apriremo una grossa battaglia per ovviamente la prossima tornata contrattuale, perché questa sembrerebbe almeno che sia chiusa. Ma siccome il lavoro del sindacato non è quello solo di dire no, ma di portare avanti le richieste dalla categoria, non ci fermeremo sicuramente qui. E cercheremo, appena ci sarà data opportunità col prossimo contratto, di portare avanti tutte queste esigenze sperando di avere più successo. Per il momento ci mettiamo in questa situazione di attesa contrastiva, come qualcuno l'ha detto, rispetto a questo contratto che non ci piace.